Sostiene che Instagram fallirà a breve. Perché? Tutto fallirà a breve, sì. Ma no, dai. Guarda, Facebook era tutto. Lo so, però Instagram negli anni è riuscito sempre a cambiare. È stato camaleontico anche Instagram. Era otto anni che esiste. A me piace quando tu osservi che i nomi degli imperatori sono stati comunicati. Esatto, dico sempre che anche un imperatore, gli più grossi imperatori della storia hanno fatto robe incredibili. Cioè, Luis, sei reso conto di una cosa vera? Non so se lo pensa da sempre o se è una cosa nuova. Però proprio la futilità è di quanto sia effimera, effimero tutto, alla fine, no? Porre la propria esistenza su un colosso, che sia un imperatore, che sia un dittatore, che sia un social, è follia. Poiché tutto diventa polvere. Viene dalla polvere e ritorna alla polvere. E da un punto di vista anche saggio. Cioè, noi esistiamo come individui all'infuori dei contenitori nei quali ci infiliamo. Perché il contenitore può sgredolarsi, l'individuo no. Vale pure per Amazon, che ormai ha 20 anni. Cioè, è bello pure più vecchio. Twitch è più recente, però potrebbe tirare dietro tutto il resto. Per quanto Amazon è una start-up, eh? Grande Besos! Simone, per favore, taci. Va bene. Tanto io me ne andrò presto. Quindi, non vi preoccupate. Sentirete la mia mancanza, ma... No, dove andrai? Dov'hai? Affanculo. No! Cioè, c'è un sacco di gente che sembra volerlo e io la accontenterò più presto di quanto crediate. Nonostante questo... Rimarrà solo chi dà. Rimarrà solo chi dà. Sarà il nuovo canale di marca. C'è anche il rischio di identificarsi troppo con il proprio contenitore. Che ne so, un tiktoker che dice solo tiktoker. Quindi, crolla tiktok, che fai? Non esisti più? Va in depressione? Muori? Stessa cosa per chi è streamer di Twitch o simile di Twitch. Noi siamo persone. Anche al di fuori. Quindi, se io me ne vado e non faccio più il cerbero, mi rompo i coglioni, continuo a esistere tranquillamente. Magari anche a vivere meglio. Tra l'altro. Chi lo sa. Chi lo sa. Certo. Ovviamente, quando si parla di personaggi pubblici, il pubblico ha la percezione di ciò che tu rendi pubblico. Quindi, purtroppo, c'è questa erronea convinzione che una volta finita la tua carriera online, anche la persona si esaurisca contemporaneamente. Succede quando lo crede anche la persona stessa. Esatto. Infatti, quello è il punto. Nel senso, finché lo crede il pubblico, è normale. Può arrivare fino ad un certo punto, cioè quello che tu decidi di mostrare. Poi, da lì in poi, inizia la tua vita. Se però tu, effettivamente, come Fight Club, ti identifichi nel tuo lavoro del cazzo, questa cosa può essere drammatica. Ricordo anche il discorso con Johnny Crick, no? Che lui ha deciso, ha preso una decisione forte, smetto di fare YouTube, questa professione per dedicarmi ad altro, morto. È morto, è vivo e vegeto, in salute. Poi, per diletto, adesso magari ha ricominciato su Twitch, però… La live, questo discorso, si è trattato ed è un discorso profondissimo. Io ci rifletto ormai tutti i giorni su sta cosa. Il successo, l'abbiamo detto qua. Cioè, la persona di successo è quella che torna a casa e si riesce a guardare allo specchio, riesce a stare bene con quello che ha. Voler rincorrere questa cosa, quando avrò determinati follower, allora starò bene. Quando avrò determinati soldi in banca, allora sarò qualcuno. È una vita proprio a rincorrere le stelline, lo zucchero filato proprio. Poi, lui si parlava di imperatori, no? Sì. Effettivamente anche la creazione di una statua, di un monumento, serviva proprio a questo. Cioè, mantenere il ricordo, solitamente, del picco massimo, della carriera, possiamo definirla così, di quell'imperatore, più avanti possibile nel tempo. Quello sta pure a noi come, diciamo, influencer, scegliere che tipo di immagine di noi stessi dare. Perché se ora decido di farmi vedere come un dio, con le abilità comunicative che ho, che cazzo ci metto a creare una narrativa per la quale io so Dio e dovete dammi retta a prescindere. A me, personalmente, non mi va proprio ormai di fare quel gioco dell'hype su me. Poi, per quanto riguarda il cerbero, il cerbero nella mia vita, ho fatto anche su questo una riflessione. Intanto c'ho caldo e vorrei... Ah, è, c'ho anticipato. Incredibile. Allora, pure il discorso prima, me ne vado, non è che mo me ne vado, ok? Ma tutti, ho tirato un bel sospiro di sollievo, ma il discorso è questo. Nel tuo lavoro, in qualsiasi tuo impegno, almeno per come sono fatto io, sapere che non è tutta la mia vita è un aiuto incredibile. Sapere che io adesso me ne posso alzare e me ne posso andare, mi fa bene all'animo, mi fa scegliere di restare. Mi vivo male gli obblighi, mi vivo male le imposizioni, mi vivo male le scadenze, che so che ovviamente viversele male non significa, allora le ignoro per sempre. Ci sono le scadenze, ci sono delle strutture nel mondo, non si può vivere sempre di improvvisazione. Ma mi rendo anche conto che se mi si toglie la possibilità di improvvisare, io muoio. Non ho più forza di fare nulla, non ho energie, non mi vengono idee, sto là, no? Quindi bisogna trovare un connubio, credo, tra come siamo fatti noi, come riteniamo di poter funzionare bene, e quello che c'è bisogno di fare effettivamente nella realtà per far andare avanti il proprio lavoro. Ora io faccio questo, ma tu potresti fare, che ne so, l'agente immobiliare, potresti fare il cuoco, mille cose che uno può fare nella vita. E quindi, ora, la conclusione che ho avuto ultimamente è questa. Io prima mi sentivo anche un po' schiacciato dai miei impegni. È stato come, anche andando via di casa, è stato come levare uno zoom da un'immagine. Ok, appunto. Chichitano, mi puoi zoomare il più possibile, please? Zoom a me la mia faccia. No, io mi vedevo, no? Massimo Pestotti, grazie. Grazie, Eugenio. Comunque, Silvia, sì, dici correttamente. Goya fu uno dei primi un po' a tradire questa cosa della bellezza degli uomini. Se io fossi un dipendente della Scream SRL, no? SRL S. Io mi vedevo così. No. Proprio schiacciato. Io e Scream, no? Grazie Lorde. Ma in realtà, se levi lo zoom, se levi lo zoom, c'è tutto un mondo di possibilità. Non è che devo buttare e sfracellare Scream. Non è, infatti. Non è che lo debbo fare. Però, però... Quando era troppo appiccicoso, magari avevo anche voglia di... Ora spacco tutto, distruggo tutto. Vabbè, allora lo faccio io. Ma no, no, no! Però realizzare che c'è tanto altro attorno a voi che può darvi gioia, che può darvi serenità, che può darvi un senso di esistere, secondo me, vi può far bene. Se tu riesci ad identificare la causa della sofferenza che ti provoca l'impegno, l'obiettivo, secondo te c'è un motivo? Indole, non lo so se è cresciuto in un certo modo. E poi te ne faccio un'altra. Secondo me... Perché questa cosa ti crea un profondo disturbo e malcontento. Perché ovviamente le rotture dei cazzo non piacciono a nessuno. Però tu te la vivi proprio male. Sì, credo sia un discorso di energie. Cioè, non decido io quando avere tanta motivazione. Arriva. E quando arriva sono un treno, ok? Ma non arriva tutti i giorni alla stessa ora. Io sono più uno che dovrebbe lavorare con i suoi orari, libero professionista, alle due di notte. Capito? Che lavoro a progetto. O mo' ci sto ragionando per come sono fatto, no? Quando hai l'estro... Sì, io devo lavorare che magari devo fare una cosa tra un mese e poi me lo gestisco io quando mi metto al lavoro, quando sento che tutto fluisce, che tutto è... Non so, tipo, da ok... Ti penso pure a scuola. Dalle 15 alle 17 studio. Non accadrà mai proprio. E studio pure male e forzosamente. Se invece mi si lascia il tempo di fammi li cazzi mia, ovviamente questo discorso non sussiste per lavori dove devi stare un giorno o là, però nel mio mondo ideale per come sono fatto io sono uno che lavora bene a progetto, che lavora bene a ispirazione, che arriva, so che devo fare una cosa, c'è una deadline, e me la vedo io. Cioè, se ti trovassi in questa situazione, cioè, totale padronanza delle tue ore e dei tuoi obiettivi, non potrebbe esserci il rischio di lasciarsi completamente andare al cazzeggio, alla pigrizia? Ne testimoniano... Perché io lo temo. Sì, sì, sì. Io ho avuto, ormai ci ho riflettuto, tutta la parentesi YouTube, YouTube fa cagare, io avevo questo sistema e non mi pare che stessi affondando, anzi... Però non c'avevi grandi obiettivi, nel senso, non so, poi magari se saresti riuscito a costruirti un'indipendenza totale, economica, non lo so, magari sì. Perché comunque magari lì per alzare un po' l'asticella, anche il guadagno, comunque dei minimi obiettivi te li devi dar. Ma non era il guadagno, era la libertà che avevo. Cioè, non ha prezzo quello. Poi poi c'è, stavo bene. Ero sereno. La libertà è pure indipendenza, no? Sì. Ma l'indipendenza è mentale. Io sono d'accordo che ovviamente i soldi servono per vivere una... No, ma banalmente anche per andarsene via di casa e potersi fare un viaggio, non lo so. Assolutamente. Infatti, per quelli come me, non penso ci sia una soluzione diretta. Io non posso farmi una lobotomia e cambiare come funziona il mio cervello. Devo fare i conti giornalmente con il giorno che viene, ok? C'è stata una citazione figa nella serie Tutto chiede salvezza, no? Con la quale... Tutto chiede Salvini. Tutto chiede Salvini. Poiché il protagonista soffre di depressione maggiore, no? E... Dato che io, vabbè, sapete, ci faccio un po' a cazzotti con la mia mente, ha detto una frase con la quale mi sono ritrovato molto. È come se ogni giorno, ogni notte io morissi e ogni giorno io mi risvegliassi con un'altra vita. ogni giorno è una vita, una montagna di cose da fare diversa, no? E ogni giorno c'ho la sensazione che appunto rinasco e devo prendere i pezzi di quello che vorrei fare ma che non riesco a fare e poi ovviamente ci sta il cebbero in mezzo. Pam, pam! Allora, ci sta, diciamo, siamo proprio agli antipodi, anche quello è il bello, no? Le antitesi degli antipodi. Dico, beh, è una visione allegra, ma infatti non è un periodo allegro per quanto mi riguarda. Tutti sanno che un traslogo è una delle esperienze più stressanti al mondo. Se uno ci mette anche i drammi esistenziali che ti vengono insieme al traslogo e vari altri stress lavorativi di ormai, cioè, sto alla soglia dei 30 anni, devo un attimo, sento dentro di me l'esigenza dei capi in attimo, cioè, di trovare un mio sistema che funzioni basato su quello che voglio fare, quello che posso fare e non voglio che i soldi che faccio siano un fattore così determinante, perché tanto se voglio vivere una vita tranquilla che faccio 2.000, 3.000, 4.000 euro al mese poco cambia, cioè, o se favo scavallamento che diventi sto cazzo o non ne vale proprio la pena. Non ci sono dei regala quei 2.000, che comunque non sono pochi. Ma metti caso che crolla tutto, il cerbero crolla, ok? Certo, può succedere di tutto, no? Certo, certo. Io non è che sono un coglione, io mi reinvento in tre secondi avendo una spinta ovviamente o fai qualcosa o rimani in mezzo alla strada. Il meccanismo di sopravvivenza. non penso che andrei in modalità amebba, troverei delle cose da fare che sto rimandando di fare da tanto tempo. Però lì non ci potrebbe essere la pressione dettata dalla paura. Ma almeno decido io, sì. Cioè a me, a me mi pesano gli orari venire qua. Secondo me nì, nel senso che decidi tu, però chi è che ti regala, che ne so, quello che hai detto, 2.000 euro al mese? YouTube. Oppure un altro lavoro? Oppure l'altro devi dare degli obiettivi. Certo. Tu sai che per fare 2.000 euro al mese da YouTube devi fare, che ne so, 3-4 video che facciano un determinato numero di views e quindi... Chiaro. Chiaro, anche il discorso live su YouTube è interessante. Io ritengo che potrei fare cose da solo che qui non potrei mai fare. Ad esempio, ad esempio stasera ci sta lo studio vuoto, c'è stiamo io e Marco. Io ho detto ma famo una cosa che non è mai stata fatta al Cerbero, che ancora non abbiamo concepito. Ad esempio, vabbè sto pure un po' spoilerando, stasera ci sarà una puntata speciale, mettiamola così. Però sì, io questo periodo e mi dispiace dirlo perché lo so tutte le implicazioni di quello che sto dicendo, ma mi sento un ingranaggio e non più un eroe della mia vita. Non mi sento più il protagonista della mia vita, della mia esistenza. Mi sento una spalla comica. e quindi insomma. Io penso che alla fine dobbiamo conquistarci anche il ruolo nella nostra vita banalmente, no? Io purtroppo l'unico modo che conosco è la costanza perché a differenza tua non ho determinati talenti che tu invece hai. Quindi magari sono io che non vedo strade alternative, però potente, dice il Pipega. Però dai, non si deraglia comunque fondamentalmente. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.